ciao e benvenuti in un nuovo video allora è stato difficile ma lo abbiamo qui il uovo di look fantastic il beauty eggs che è l'uovo di pasqua di look fantastic quindi ovviamente a tema tutto beauty è stato difficile perché a me l'hanno mandato quindi ok però ho letto che c'è gente che lo ha ed è prenotato mesi fa e ancora non era stato spedito non lo so cosa è successo però adesso vedo che stanno pubblicando quindi forse è arrivato non lo so ma noi andiamo ad aprirlo è qui e arriva in questa confezione che si apre in questo modo ok e questo è l'uovo che devo capire come si apre va bene intanto vi dico che il prezzo di questo uovo è di 70 è bello in metallo anche è di 70 euro che però è scontabile quindi ad esempio con il mio link avete 10 euro di sconto sul primo ordine quindi andiamo già a 60 ma noi partiamo da una base di 70 euro e cerco di capire come farlo per vedere cosa contiene ma è bellissima la confezione ma si apre si è aperto allora veniamo a noi dentro è in metallo così abbiamo tantissima paglietta, ok vedo i prodotti vedo i prodotti che profumo che ne esce ok andiamo a vederli meglio allora io questa paglietta l'appoggio direttamente qui ed non c'è un QR non c'è niente da leggere dentro e quindi a questo punto andiamo direttamente dal sito allora il QR alla fine l'ho trovato era nella confezione esterna che avevo aperto per togliere l'uovo e fare le foto allora noi andiamo in ordine a caso andiamo a caso questo è il più grande che vedo oh Anastasia Anastasia Beverly Hills Day We Set Setting Spray è un 100 ml quindi è un full size e partiamo benissimo con un full size allora Anastasia o Anastasia 30 euro oh madonna santa benedetta guardate è tutto glitter ok si apre così e si micro 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 particelle ma aspettavo una cosa molto più glitterata quindi ok bello glitter luminoso ma questi glitter che sono dentro si però aiuto qui si attacca tutto ok ok ma aspettavo una cosa di diverso va bene però devo provarlo sono cose di provarlo poi andiamo avanti e andiamo avanti andiamo da qua ok questo penso che sia una mini size e ero curioso di sapere questo profumo perché Sol de Janeiro sapete che è un marchio che io amo adoro è tutto quello che volete questo è Delicia Drink Body Butter quindi è nuova profumazione della crema corpo intanto vi dico il prezzo che è 11 euro ed è un mini size chiuso ok devo provarlo forse mi piace di più il classico il classico tropicale però questo è più delicato ibisco più delicato devo provarlo ma vi farò sapere e comunque si metto 11 euro poi andiamo avanti questo è Codalie in vetro ed è Bete lissante eclate detente agitare prima dell'uso tutti i spray abbiamo questo è prima delle adesso lo leggiamo assieme se ci riesco vaporezzare vaporezzare glovi complex non so cos'è e quindi andiamo ok è più corposo quindi forse è più un'acqua termale molto profumata più un'acqua termale eclat che rende luminosa la pelle ok devo capirlo bene non mi piace quando vi dico un prodotto così e poi non capisco di sciante andiamo a scoprirlo comunque questo vi dico il prezzo è ecco è molto molto profumata molto molto profumata questa è più ad esempio da vaporizzare durante il giorno per rinfrescare il trucco anche sto cercando il prezzo è un travel size da 30 ml comunque ha un valore di 17 euro poi andiamo avanti Philip Kingsley che mi piace sempre molto come marchio questo è l'elastic styler multitasker for all top ok 5 in 1 trattamento 100 ml siero mutazione per tutti i tipi di capelli 5 in 1 che cosa vuol dire addolcisce fortifica prepara alle alla piega dice di asciugare i capelli rapidamente con una salviette e poi applicare una noce di prodotto sulle lunghezze asciugare come si preferisce una piccola quantità può essere applicata sui capelli asciutti quindi anche per i ricci nel caso ok questo lo devo provare sto traducendo dalle francese quindi si ok eccolo qui scusate ed è questo qui è 33 euro ma sappiamo che è un buon macchio ok trattamento 5 in 1 andiamo avanti a questo punto ci restano 3 prodotti partiamo da questo cos'è medicotto medicate aiuta crystal retinal ceramide quindi è un contorno occhi da 15 ml quindi immagino che sia un full size alle antirughe ceramide ok questo qui 60 euro quindi volendo questo qua ha il valore della box 70 euro la box però con lo sconto 10 euro va 60 ok questo lo proviamo lo proviamo subitissimo due prodotti rimangono allora andiamo con questo elemis noi abbiamo mai trovato una box dove non ci sia dentro elemis secondo me no elemis superfood facial oil hydrating face oil olio idratante viso 15 ml massaggiare 3-4 gocce sul viso allora mi piace l'olio per il viso in inverno questa è bella l'ampollina è proprio un olio io non pensavo che mi piacessero gli oli per il viso perché ho la pelle mista tendente al grasso però ho riscoperto un po' gli oli quelli non troppo oleosi quando faccio il peeling chimico che poi la pelle è davvero molto molto irritata ed è e tendo a metterci in un paio di goccette e usare un olio che trovo che assorba molto più velocemente poi dopo ci applico la crema nel caso però piuttosto che mettere tanta tanta crema preferisco così comunque sia due gocce effettivamente asciutto questo qua lo teniamo per questo inverno e le miss so che costa lo so già 58 euro prodotti validi ma per me con un prezzo troppo alto però validi e andiamo all'ultimo prodotto perché dopo di che c'è solamente la bustina di silice ed è finita andiamo all'ultimo prodotto che è Iconic London ok Enric Leavet mascara ok quindi make up di make up alla fine tranne il setting spray c'è solo questo e intanto Iconic London 25 euro questo è il mascara che è un full size ok mi può piacere l'applicatore lo proviamo e vi faccio sapere allora andiamo a fare un recappino veloce abbiamo detto 70 euro la box che volendo arriviamo a 60 all'interno troviamo il mascara di Iconic London poi il setting spray di anesthesia Caudalie l'acqua termale Philip Kingsley il trattamento per capelli 5 in 1 raccogliere qui poi è morta la luce mentre parlavo è morta la luce ma abbiamo risolto abbiamo questo che è il Medicotto che è un contorno occhi dal super valore quindi vedremo un po' Elemis Superfood Facial Oil e questo che ero curiosa di provare il Delicia Brank Body Butter di Sol de Janeiro e questo era tutto ops il contenuto della box in tutto questo abbiamo detto che il valore il prezzo della box è di 70 euro io facendo un attimino siamo su 234 quindi mi sembra un ottimo valore anche perché sono tutti tranne la crema corpo e l'Elemis abbiamo detto che anche l'Elemis questo qui ho sbagliato non l'Elemis Caudalie sono un travel tutti gli altri sono full size quindi ci sta interessante da provare ma a questo punto io appoggio fatemi sapere voi che cosa ne pensate cosa se vi è piaciuta se vi è incuriosito se queste box vi stanno stancando oppure se vi piace che sono periodiche a questo punto non so la prossima sarà la festa della mamma mi viene un po' da pensare così ma vedremo ed è comunque ed è come sempre spero vi è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao